Nei primi nove mesi del 2019 l'economia pugliesi ha continuato a crescere a ritmi contenuti, sostenuta dall'andamento dell'industria e dei servizi. L'evoluzione dell'attività economica sarà influenzata dagli sviluppi delle vicende che riguardano lo stabilimento Arcelor Mittal di Taranto. Da questa premessa ha preso avvio oggi l'aggiornamento congiunturale dell'economia in Puglia, presentato questa mattina a Bari nella sede della Banca d'Italia. Nell'intervista di Alba Di Palo, il direttore della sede Banca d'Italia Bari, Pietro Sambati. A differenza del dato nazionale che ha perso slancio l'Italia, la Puglia continua a crescere ma a un ritmo contenuto, sostenuta dall'andamento di industria e di servizi. Dall'industria un contributo viene sicuramente dall'alimentare e dal meccanico e nei servizi ricordiamo l'apporto del turismo, ma questa crescita non basta a recuperare i livelli precrisi. Per quanto riguarda l'occupazione, siamo ancora a 47.000 occupati sotto il livello precrisi. Ricordiamo il settembre 2008, fallimento Lehman Brothers per avere un dato di riferimento. 47.000 vuol dire una città come Monopoli, una città come Martina Franca. L'Italia invece ha recuperato i livelli precrisi. Per quanto riguarda il PIL, mentre l'Italia è meno 4 punti, noi siamo ancora meno 7 punti percentuali. Quindi c'è un lavoro da fare e il passo di crescita sul quale ci siamo collocati ormai da anni non è sufficiente per recuperare il ritardo strutturale che ormai abbiamo. Che cosa bisogna fare per recuperare questo ritardo? Sicuramente la risposta sta nel rilancio degli investimenti in primo luogo pubblici. Ed ecco che il tema si incentra anche sul riferimento alla vicenda che ha radici locali, quella dell'ArcelorMittal, ma ha una valenza e un respiro nazionale e sovranazionale. Sappiamo tutti, siamo tutti consapevoli dell'importanza di coniugare salute e lavoro, di coniugare ambiente e produzione. I numeri sono importanti. È evidente che l'impatto va visto non soltanto con gli effetti diretti, ma anche su quelli indiretti e sull'indotto. C'è la filiera legata agli acciai speciali prodotti dall'ILVA, dall'ex ILVA, che riguarda l'automobile, che riguarda gli elettrodomestici, la cantieristica, le opere pubbliche, che riguarda buona parte della filiera produttiva nazionale. E quindi la risposta deve arrivare in primo luogo, dicevo, dagli investimenti pubblici. Non basta però spenderli soldi, bisogna spenderli bene. Ci sono ancora fondi che derivano risorse europee. Ci diceva il collega, oltre 5 miliardi di risorse da spendere. E poi c'è fieno in cascina, perché le imprese hanno recuperato liquidità. Le imprese sono liquide. La situazione di reddito e finanziaria delle nostre imprese è migliorata. Le banche hanno liberato tutte quelle posizioni deteriorate. Il credito deteriorato delle banche è significativamente ridotto, sia come flussi che come stock. E quindi c'è spazio per finanziare le iniziative meritevoli di credito. Ricordiamoci quindi che queste cose che riguardano il futuro, come dicevo prima, la diritta via era smarrita, si inserisce in un quadro di certezza normativa. Perché è una lezione, abbiamo imparato da questa vicenda. Che bisogna avere norme, magari non perfette, ma certe e stabili nel tempo.